Facebook potrà continuare a raccogliere i dati dei propri utenti in Germania ricavati da altri siti e applicazioni solo col consenso degli interessati. Lo ha stabilito l'autorità antitrust tedesca. La decisione dell'ufficio federale di Berlino riguarda anche i dati ricavati da altre applicazioni di Facebook, come Instagram. L'obiettivo è impedire la fusione di tutte le informazioni che Facebook raccoglie e costringere i giganti della tecnologia ad adattare il loro modello di business alla legge sulla concorrenza. In soldoni Facebook dovrà presentare, entro quattro mesi, una modifica delle sue condizioni d'uso al Bundeskartellamt, che dovrà quindi approvarle. Facebook ha annunciato che presenterà ricorso contro la decisione che riguarda solo gli utenti in Germania, ma potrebbe avere ripercussioni anche in altri paesi europei.